Boom di contagi a Torre del Greco. Secondo l'ultimo bollettino nella giornata di ieri sono stati certificati 37 nuovi casi di positività al Covid-19 e registrate 10 nuove guarigioni. Muta così il bilancio della 569esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 12, totale in isolamento domiciliare 114, totale guariti dal Covid 6.794, totale decessi 176. A Torre Annunziata invece l'ultimo bollettino parla di tre nuovi casi di contagio a fronte di 40 tamponi processati con l'indice di positività che si attesta al 7,50%. Non si registrano guarigioni. Sono 97 cittadini attualmente positivi. L'incidenza di nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 abitanti nella settimana che va dal 18 al 24 ottobre è pari a 130,58. Sono 4.715 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.524 guarite e 94 decedute. Secondo invece il bollettino dell'unità di crisi della regione Campania, nella giornata di ieri si registrano 253 positivi a fronte di 9.655 tamponi effettuati, 7 i decessi. Il report dei posti letto su base regionale parla di 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, 17 occupati, mentre i posti di diligenza disponibili sono 3.160 e quelli occupati 183. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS